Buongiorno a tutti, mio nome è Tizioventi, benvenuti in questo video ultra breve in cui vi dico che sotto questo video dovete scrivere nei commenti delle domande perchè il prossimo vlog è tipo un fuck you time, fuck you time, ok, tipo un esempio, un esempio di domande che potreste fare Cosa c'è sotto questo calzino? Lo volete sapere? Buongiorno a tutti